NEPOZIANO Nepoziano nacque nella seconda metà del IV secolo, circa l'anno 360, nella città di Aquilea. Essendo morto il padre, mentre era ancora fanciullo, Sant'Elio d'Oro, suo zio per parte di madre, che si trovava in Oriente, in compagnia di San Gerolamo, tornò in patria per assistere sua sorella, rimasta vedova, e per prendersi cura del giovanetto. NEPOZIANO Il quale corrispose in modo splendido alle piepremure e alle solitudini dello zio, facendo forti e consolanti progressi tanto nello studio come nella pietà. Giunta ad un'età adeguata, fu messo nella corte dell'imperatore, dove, però pure in mezzo alle delizie e al lusso, egli conservò la sua purezza e lo spirito di pietà e di mortificazione. Per preservarsi dalle seduzioni della vita mondana di corte, digiunava spesso, portava sotto le vesti preziosi e sotto i candi di lini il cilicio e nutriva la sua anima con la preghiera, con la lettura e lo studio della sacra scrittura. Esercitava anche le opere della misericordia, soccorrendo e giovando a tutti nell'ambito delle sue possibilità. Alla fine, annoiato dal tumulto della corte e chiamato dal signore ad una vita sempre più perfetta, fece ritorno presso lo zio Eliodoro, il quale, nel frattempo, era stato sollevato alla cattedra Vescovile di Atino, città della marca trevigiana, che venne poi distrutta dagli unni. Libero di sé, incominciò nepozziano a distribuire tutti i suoi beni ai poveri ed intraprese una vita solitaria, mortificata e penitente. Il suo desiderio era di ritirarsi in qualche monastero dell'Egitto o della Siria, o almeno in qualche solitudine delle vicine della isola della Dalmazia, ma ne fu trattenuto dall'amore e dal rispetto verso suo zio, che egli venerava come consacrato ed amava quel padre, il quale, dal resto, era per lui un modello delle più grandi virtù. Non passò molto tempo che Eliodoro, scorgendo nei nipoti tutte le qualità che devono costituire l'anima di un sacerdote, lo aggregò al suo clero di Altino e, dopo averlo fatto passare per tutti i passaggi degli ordini minori, nonostante la sua riluttanza, dovuta alla profonda sua amità, l'ordinò sacerdote. Si vide allora nepozziano tanto fedele discepoli di suo zio Eliodoro, quasi non meno di Santimote verso San Paolo. Considerando il sacerdozio non tanto come un onore, ma un onere, si adoperò nell'aiutare i poveri a visitare gli infermi, ad accogliere gli ospiti, a guadagnare il cuore di tutti con l'umiltà e la mansuetudine, rallegrandosi come vuole l'Apostolo, con chi era lieto e piangendo, con chi era mesto e facendo tutto per guadagnare tutti a Cristo. San Nepoziano faceva di giorno in giorno tali progressi nella virtù e nella santità, che tutti ne erano meravigliati ed edificati. I fedeli di Altino si auguravano di averlo come pastore, quando il Signore avesse chiamato al cielo già il vecchio e santo vescovo Eliodoro, suo zio. Ma il Signore voleva anticipare a Nepoziano la ricompensa eterna a cui egli aspirava e chiamarlo alla celeste patria in età ancora giovanile. Infatti, trascorse appena pochi anni dalla sua consacrazione sacerdotale, fu sorpreso da una gravissima malattia che lo portò alla tomba. Ardendo, scrive San Girolamo, per la febbre e consumandosi dall'eccessivo calore umido, radicale, con languido respiro, l'infermo consolava l'addolorato suo zio Eliodoro e manteneva la faccia allegra e, piangendo tutti quelli che gli stavano attorno, egli solo sorrideva, gittò le coperte, stese le braccia, vide ciò che gli occhi agli altri altrui era celato e, alzandosi come per incontrare chi veniva a visitarlo, facendo conoscere che egli non moriva, ma partiva e accoglieva nuovi amici, non lasciando i primieri. Nepoziano morì il giorno 11 maggio del 387, compiando da tutta la città e da tutta l'Italia. Ringraziamo il sito santibeati.it e l'autore Don Luca Roveda per aver scritto questa biografia. Salve! Allora, in base a questa biografia che abbiamo appena letto, biografia che poi, in pratica, trattasi di uno santo o quasi sconosciuto, addirittura, penso che non esistano neanche i nomi attribuibili a lui, neanche per sfortunata coincidenza. Quindi, esempi come questi che realmente ci portano ad una concezione unica, che tutto ciò, non voglio andare contro al biografo, non voglio andare contro neanche San, al Don Luca Roveda, quindi quello che vorrei un attimino esprimere è che da questa biografia non si vince ciò che è stato l'attributo principale. Quindi, sì, il ragazzo era un virtuoso, ma tali virtù non nascono per predisposizione. Il Signore è colui che appunto scrive dritto nelle righe storte, il Signore è colui che realmente riesce ad imprimere nel cuore delle persone il suo progetto. E quindi, per quanti virtù belle possa aver avuto questo bambino, questo fanciullo, sicuramente senza l'aiuto del Signore non avrebbe potuto maturare nulla. Quindi, ancora una volta, questa biografia ci indica, ci fa capire che se il Signore non opera, noi non possiamo fare nulla. Da noi stessi, come diceva appunto Gesù, nei discorsi con Suor Faustino Kowalska, senza di me non saresti capace di ricevere, di capire le grazie che io ti dono. Quindi, dobbiamo avere una grandissima comprensione ogni giorno, ogni momento, di quelli che sono i nostri attributi positivi e capire che sono i doni che Lui ci dà attraverso lo Spirito Santo. Certo, non è semplice, perché il nostro ego è in contrasto nettissimo con la nostra umiltà. Quindi, sarà più facile così attribuire gesta anche eroiche alla nostra stessa persona, quando in realtà non è così. di questo santo, noi appunto evinciamo la sua umiltà, un po' come è successo con San Francesco d'Assisi. Ecco, lui diciamo che ha un attimino, quasi mille anni prima, ha vissuto le stesse virtù di San Francesco, appunto, perché San Francesco non voleva diventare sacerdote, perché non si sentiva degno di rappresentare il Cristo, e così appunto è stato anche per questo ragazzo. Quindi, probabilmente per San Francesco è andato meglio, perché il Signore aveva dei progetti su di lui che erano diversi. San Francesco aveva una visione più aperta del mondo, una visione ancora più più aperta di Cristo, quindi sono storie che più o meno si riassumono nello stesso concetto, quindi alla base di tutto è l'umiltà, senza l'umiltà non vai da nessuna parte, l'umiltà come la carità. Noi possiamo tutti i giorni stare qui a parlare dei vari Santi, delle loro diversità che in ognuno di loro si si maturano rispetto all'uno con l'altro, però in tutti ci sono due valori che sono immutabili, quindi come dice appunto il il Vangelo vi manderò a due a due, quel due a due appunto vale anche per quello che riguarda le varie caratteristiche, quindi se noi siamo incentrati nella fede, speranza e carità, sicuramente la nostra vita andrebbe avanti solo e esclusivamente se noi avessimo concentrato appunto l'unità e la carità, quindi sono due due mezzi che non possono non prescindere l'uno dall'altro e questo ci fa capire ancora una volta che noi dobbiamo pregare, pregare anche tanto perché il Signore ci dirà la possibilità di migliorare in una condizione che non spesso e volentieri non migliorerà, nel senso che noi ci potremmo convertire, ci convertiremo, ci mancherebbe altro, certe cose non faranno più parte della nostra vita ma nel nostro animo molto probabilmente i nostri input saranno sempre gli stessi, ecco quello che cambia nella conversione non è l'atteggiamento l'atteggiamento mentale ma è l'atteggiamento radicale quindi non saremo delle persone migliori saremo delle persone che faranno cose migliori ma non saremo persone migliori quindi è lì il punto di svolta essere in Gesù Cristo non vuol dire essere delle persone che riceveranno degli attributi particolari saremo sempre gli stessi però riceveremo la possibilità di poter essere migliori di noi stessi ogni giorno che passa dipende un po' da noi se noi riusciamo come san nipoziano a capire che il Signore ci vuole donare delle cose allora avremo capito che appunto saremo avanti nel nostro percorso e quelle cose che Lui ci dona noi dobbiamo donarle agli altri gratuitamente avete ricevuto gratuitamente donate grazie grazie a tutti